la parte che scende qua è di una materiale tremenda infatti ho voglia a modificarlo questo no no Nena lenda te other people as well. So everyone has to use a near enough. Yes, that's at the bar Ma signora, ma signora Ma signora Ma signora Buon amore Ok, è Oscar Piero E lei entra in Ta Q E l'Oscar va a Roberto Roberto Chiami il motore Uno, azione Ok Ce l'hai il motore tuo? Io so Azione Finiscite particolari, questa da ferma dobbiamo rifarla Probabile che è il mio quello Probabile che è il mio quello Perché l'ho preso io Davanti Tu però non lo devi accusare No Quando volete 1, 2, 1, 3, 4 Azione Qua 3, 2, 1, 2, 3, 4 Guarda Penso che questa persona non fa tutto il nostro cazzo Sì, andiamo! Penso! Penso! Ah! Cosa! Cosa! Qu'è un'onestione? Cosa che introdurare? Cosa non poteva? Penso che... ...se bubbero sono tu... ...di il nostro caso è... ...se bubbero sono i... ...si... ...dri... ...vi... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti